Musica Sono a Piazza Peppino Impastato, incontro Santi Musmeici e dell'Associazione Morfeo. C'è un grande progetto per Acireale, soprattutto in una piazza che ricorda la figura di Peppino Impastato. Raccontaci un attimo cosa succederà in questa piazza durante questi incontri e questi spettacoli essenzialmente. Sì, in questa piazza praticamente abbiamo deciso di organizzare una serie di eventi in concomitanza col Comune, ma soprattutto con la presenza del Consiglio dei Ministri. È un progetto che abbiamo portato avanti già da quattro anni. Quattro anni fa abbiamo presentato tutto a Roma. Dopo un bel po' di tempo siamo stati convocati nelle sale della presidenza del Consiglio dei Ministri e ci hanno detto che facevamo parte dei 550 progetti che erano stati scelti in tutta Italia. Il progetto comprende la valorizzazione di un mene, in questo caso ne abbiamo scelto il chiostro di Piazza Peppino Impastato, perché comunque le bellezze della nostra città non sono solamente quelle che viviamo giornalmente al centro storico, ma comunque spostandoci di qualche via ci sono delle bellezze che vanno valorizzate allo stesso modo. L'estate sarà ricca di eventi, abbiamo 11 eventi musicali, 7 teatrali, serate di cabaret che verranno svolte direttamente sulla piazza, mentre all'interno del chiostro verranno organizzate delle mostre di pittura, delle estemporanee, mostre fotografiche. E stiamo cercando in concomitanza con dei giovani architetti anche di fare dei meeting in cui si parla dell'architettura ecese per valorizzare non solo questo bene ma anche altri che magari sono meno conosciuti nella nostra città. Ci sarà un calendario dettagliato di tutte le iniziative che vedremo durante l'estate, no? Sì, il calendario già c'è in quanto grazie all'assessore Antonio Coniglio siamo stati inseriti nel palinzesto degli spettacoli estivi, quindi si possono trovare lì oppure anche su tutti i social siamo presenti sotto il nome La Chiave del Futuro che è il nome del progetto. Mi preme precisare che comunque l'iniziativa non costerà nemmeno un centesimo al comune perché verrà tutta quanta totalmente finanziata, quindi è un'opportunità sia di crescita per la nostra città sia anche di svago per tutti quelli che magari la sera piuttosto che stare a casa a guardare la tv noi invitiamo a farci compagnia e ad ascoltare della buona musica, a vedere delle belle opere teatrali.